Buongiorno, mi chiamo Roberta, ho 25 anni e vengo dalla provincia di Cremona, che è la mia italiana di Milano, in Italia. Parlo l'italiano, che è la mia lingua nata, ho studiato l'inglese, il francese e adesso andremo a parlare il trigolese, che è il dialetto del mio paese, Trigol. Quando ero piccina ho imparato a parlare il dialetto con i miei nonni, della parte di mio papà e di mia mamma. Menona Severino è l'unica che sa parlare l'italiano, perché ho studiato all'università, ho studiato il latino e sa parlare il dialetto, ma con i miei nonni mi parla praticamente sempre il dialetto. Ho imparato a parlare il dialetto perché ho avuto la stessa lingua dei menoni quando ero piccina, e mi ricordo che giri cinque anni quando mia nonna Silvia l'ha insegnata a recitare a memoria l'orazione della benedetta quaresima, che è una preghiera del dialetto del mio paese, Trigol. E il venerdì mattina andai con mia nonna Silvia e le sue amici al bar e bello il cappuccino e mi ricordo che lei parla il dialetto con me come se fosse una grande, una fiola. E mi piasia. Ma adesso credo che lei parla poco il dialetto e la mia famiglia, ma il Trigol si fa parte della mia cultura e della tradizione del mio paese. E mi dispiace tanto che lei parla poco. e mi ricordo che ho imparato di proerbe nel dialetto quando ero sei anni, sette anni. Se sono i genitori, sono mia che insegnare il dialetto ai miei figli, perché il dialetto, anche il dialetto, la mia tant'fena per una, la mia considerata la mia tant'fena per una. e la mia tant'fena per una, penso che insegnerò mia il dialetto ai miei figli, ma sono contenta dell'esistenza dei Wikitongues, perché la maniera giusta per scorda mia, il dialetto è questa lingua che è veramente importante per me. e vi ringrazio tant'fiss per l'ho ascoltato, questa qui è la mia storia, e questa qui è la lingua della mia infanzia e della mia famiglia, dei miei nonni e dei miei genitori. Sti bene!